Una delle note caratteristiche più tipicamente regionali, anche se riscontrabili in qualunque altra situazione ambientale, è quella rappresentata dal ricorso al bicchiere di vino, come mezzo non soltanto di comunicazione e di rapporto con gli altri, ma anche come rimedio insostituibile nei confronti di ogni situazione spiacevole e dolorosa, contro la miseria, contro le malattie, contro la disoccupazione, oppure anche per trovare sollievo di fronte alla constatazione che il mondo va a rotoli sul piano sociale, morale, politico, religioso, familiare. L'uomo rantuccio, o l'uomo biasino, trova sempre una via d'uscita, un rifugio che fa dimenticare la realtà triste e lo fa sentire più buono e meglio disposto a comprendere e a sopportare. Questa presenza costante del bicchiere paesano è facilmente riscontrabile attraverso una rapida rassegna antologica dei passi in cui LG vi accenna e che diventano quasi il leitmotiv del suo piccolo mondo contadino-cittadino. A questa consolazione postuma di Biasino, che essendogli morto il maiale datogli dall'ente Fucino, non si lamenta tanto della perdita economica da lui subita, quanto soprattutto del fatto che non l'ha potuto gustare bello cotto, insieme con un buon bicchiere di vinello fatto in casa, si aggiunge la battuta finale con cui lo stesso Biasino risponde a rantuccio, quando costui gli racconta che il nuovo edificio delle poste di Avezzano non si può ancora costruire, perché nell'opera di scavo, per le fondamenta, si è trovata acqua. E che segretario, da trovaccio le vine, Randu? E così a rantuccio, che ricorda i tempi passati in cui la settimana marsicana si svolgeva tutta a base di arrosti di maiale e di sfrizzi allo spiedo, mentre adesso si è ridotta soltanto a mostri di pittura e corse motociclistiche, ecco come risponde Biasino, al quale replica, quasi come un eco, lo stesso rantuccio. Cine, so capite, dimmi po', degli sfizzi che stivi a mento a tu prima, ne ora, e va bene, ma una brava buca retuccia divino strana, ce la potevi a fare o no, rantuccio? E perché no, Biasino, e poi mocio, se gli hanno una rozza negli panugni, come facciamo a chiacchierare una rapuca? E ancora? Lascia perdere, va. Piuttosto, perché non ci andiamo anche via a facciare cucite di quelle nostrane? Oh, tengo una rozza, oggi mi faccio rilasciare un litro che è tutta una surza. Noi siamo vecchi e a llegare una rozza ci teniamo la crete che sta a surpergine pure una copella di vino da dieci litri. Ti ricordi quando siamo alla casa di Antonio Selluso che ci faceva il bello diretto alla otta che gli è tuba da gomma. E non fosse mai stata quando fu dopo mesura che stiamo a surchiando come un setta a scilaposa. Eremmo arrivato agli affunni della otticella. E lo scroccone, colui che si presenta a casa di altri con una scusa, ma in realtà vuole soltanto mangiare e bere alle spalle del padrone di casa, prende il nome di Richette, Righetto, nel dialogo tra i due amici. Ogni volta che Richette mi va a portare il giornale a casa, si presenta sempre all'ora di mangiare. Si fa uscite, si fa una cacchierata, si frega una parte di bucaretta di vino e se ne va. E infine, grottesco ma realistico, lo sgomento di Rantuccio al pensiero che un giorno o l'altro tutti moriremo. E quando ci siamo morti? Come ci ne facciamo più nel bicchieruccio nostrano? Ho ancora l'immagine paradossale che serve sempre a Rantuccio per offrire all'amico l'esatta dimensione della sua sete. E' dunque il modo di commentare e di concludere qualsiasi discorso, dal più serio al più superficiale, in ogni situazione e in ogni circostanza. E' la filosofia del povero uomo, del disgraziato che non può vincere il suo destino, ma non vuole neanche farsi dominare o distruggere dalle disgrazie. In questo cd vengono raccolte alcune registrazioni radiofoniche, le più significative, che rappresentano la documentazione sonora di quanto siamo andati fin qui dicendo sulle caratteristiche culturali, morali, sociali, psicologiche e linguistiche di questo personaggio eccezionale dell'Avezzano dal dopoguerra d'oggi, e qualche spezzone filmico nel quale il personaggio svolge il suo ruolo non soltanto con la voce e il dialetto, ma anche con la mimica e la gestualità.